Inizio questo intervento breve con un messaggio che abbiamo ricevuto ieri dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che voglio leggere a tutti voi. Sindaco Marco Bucci, autorità presenti, Ministro Giovannini, parenti delle vittime, care cittadini e care cittadine. Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi voglio rinnovare la più sentita vicinanza del Governo e mia personale ai parenti delle vittime, ai feriti e a tutti i genovesi. Il dolore per questa terribile ricorrenza si associa a una profonda convinzione. Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non avvengano mai più. Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, tutelare la vita di tutti i cittadini. Ne va della credibilità dell'Italia e delle nostre istituzioni. Durante la mia visita a Genova ho visto una città forte e unita, che non dimentica il passato e guarda con coraggio al futuro. La rapida realizzazione del nuovo Ponte San Giorgio è un esempio straordinario di collaborazione e concretezza, un modello per tutta l'Italia. Voglio ringraziare ancora una volta il Sindaco, a tutta la struttura commissariale, le autorità locali, in particolare il Presidente della Regione Giovanni Toti, il Senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto. Mario Draghi